Sono il dottor Mauro Galvani, medico specialista in chirurgia, responsabile di ricerca e sviluppo della Etic Tattoo. Etic Tattoo, dopo il successo ottenuto con la macchinetta Tattoo One e l'armografo completamente sterilizzabile in autoclave, ha realizzato e brevettato un dispositivo motore ad aria e compresse, che permette di rendere sterilizzabili tutte le tradizionali macchine, sostituendo il motore a bobine elettriche con il nostro motore a engine. Il nuovo motore Etic Tattoo risulta quindi completamente compatibile con tutti i telai delle tradizionali macchine, con tutti i loro accessori molle a americane. Vi dimostrerò quanto è semplice questa sostituzione e quanto è performante la macchina anche utilizzando un piccolo compressore da areografia. Nel salutarvi vi dico cambiate il cuore della vostra machine e buon lavoro da Mauro Belvani e da Etic Tattoo. Disassembly of the two electric coils from a traditional tattoo machine. A traditional coil's engine is substituted with an air compressed engine, compatible with all of the frames of the traditional machines and with all of their accessories. www.tosarici.com The machine is connected to a simple spray gun compressor. The pneumatic etiquette to engine allows for all traditional machines to completely be sterilized and autoclop. Here we can see the assembly of the Etik engine on a special frame. While assembling, the free stroke of the piston within the engine must be guaranteed. Etik2's frame allows for the scrolling of the engine back and forth to optimize its position. Also the back block scrolls back and forth to allow for the lever arm of the springs to be modified. To draw to two lines we will use a short lever and vice versa for shades and nuances. The setting technique is similar to that of traditional machines. The frequency can vary through the superior setting system or by modifying the air pressure used. At one pressure bar, Etik2 engine only uses 5 liters of air per minute. At two bars of pressure, maximum pressure suggested, it uses 12 liters per minute. A small spray gun compressor is more than sufficient. Tested by many tattooists, Etik2 engine turns out to be highly efficient and perfectly corresponded to the hygiene and sounding to normal as it is completely washable and can be sterilized and autoclop. the complain. The The wing saOR It's compounding Ete S